Cosa vedremo insieme questa sera? Allora vedremo dei punti Vedremo questa formula del cambiamento che avrà due parti La parte start, poi capiremo perché è start E la parte go, che è la parte più attiva Poi capiremo come volete valutare il fattore C E lo so che molti di voi per C stanno pensando a qualcosa Però per C in questo caso è il cambiamento Non è quello che avete pensato voi dove siete seduti È il cambiamento Poi invece vedremo che un viaggio inizia dal primo passo Quindi il concetto dei piccoli passi vale tantissimo per i cambiamenti Grandi o piccoli che siano a distanza di anni Però i cambiamenti molto spesso non iniziano per il primo passo Ripeto, i cambiamenti molto spesso non iniziano Perché manca il primo passo Allora, io entrerai nel vivo E però ho visto un po' di persone Mentre scorrevo tutte le persone Vorrei dare il benvenuto ad una persona che ci segue anche dall'estero Fabio, che ancora non conosciamo personalmente Perché so che sei collegato dalla Tunisia Se non mi vado male Quindi un benvenuto a tutte le persone collegate E anche chi è da molto lontano Parliamo di cambiamento Cambiamento Ci sono, e adesso vi prego di pensare Vita privata, vita professionale Cose che adesso magari raccontate sorridendo Ma cambiamenti che ci hanno fatto magari non dormire qualche notte Sono sicuramente di due grandi aria C'è l'aria dei cambiamenti dovuti Perché è arrivato qualcosa Io vengo da una città dove in una notte Tutti hanno dovuto fare un cambiamento Perché l'Aquila ha avuto anni fa un sisma spaventoso Per cui non è che dovevi molto stare a lì Come pensate al lutto, ad altre cose Quindi ci sono cambiamenti dovuti E cambiamenti voluti Qual è il vero senso? Che in tutti questi due tipi di cambiamenti Che tanto sono inevitabili E non dobbiamo pensare che a noi non accadono Magari speriamo sempre che non accadono Il nostro atteggiamento verso il cambiamento Deve essere lo stesso Cioè tutto quello che noi vedremo in queste serate Tutto quello che porteremo a valle nell'evento Perché poi nell'evento ci sarà Non so se avete intuito anche dal video Un manuale che ti segue passo passo In maniera tale che tu hai dopo la tua ricetta Per il cambiamento in base alle tue cose Le tue persone, le tue esperienze e ad altro Però sicuramente i cambiamenti sono i due tipi C'è quello voluto e quello dovuto I pilastri che ti possono aiutare Sorreggere in questo cambiamento Sono sette in totale Noi ne avremo tre che sono quelli principali Quelli portanti E poi sette che vedremo all'evento Cioè se tu devi parlare di pilastri del cambiamento Dobbiamo capire che noi abbiamo proprio mentalmente Qualunque cosa facciamo a gestire il tempo A gestire l'azienda A gestire un cambiamento A gestire un team di persone A gestire una famiglia A gestire una complicazione con un figlio a casa Dobbiamo avere tre tipi di matriosche che ci aiutano La prima è quella di mentalità Cioè con quale mentalità sto affrontando il cambiamento Con quale mentalità ho deciso di cambiare città Con quale mentalità mi sto difendendo da una relazione tossica Spesso è la mentalità Pensate nello sport Spesso è la mentalità che fa la differenza A parità di competenze tecniche o di preparazione atletica Dentro la matriosca mentalità c'è la strategia Delle volte noi abbiamo non solo la mentalità Ma abbiamo bisogno di una strategia Sì la mentalità è vincente Ma tu hai un pacchetto di strategie Sai che devi fare tre grandi passi Comunicare, sistemare e poi approfondire Sto facendo degli esempi Vedrete che noi abbiamo una strategia ad esempio Per lavorare sulla mentalità cambiamento Vi presenterò fra qualche slide Anzi esattamente nella prossima Che è una macro strategia Per capire come mettere in moto il cambiamento Io mi sento di dire Non sono né io, né Danilo, né i nostri coach I vostri accompagnatori del cambiamento Ma attivatori sì Cioè noi possiamo attivare un cambiamento Come si dice Il cammello lo puoi portare alla fonte Ma non lo puoi costringere a bere Le persone lo possiamo portare sulla scala Ma non sulle nostre spalle Quindi mentalità, lavorare sulla mentalità Avere delle strategie E poi con quali strumenti Lavoro con queste strategie Per dar da mangiare Per nutrire quella mia mentalità Quindi spesso io ho grandi strumenti Ho grandi strategie Ma ho una mentalità non vincente Quindi ho paura dei cambiamenti Oppure non ho paura Ma non so cosa fare Perché? Perché mi mancano strategie e strumenti Quante volte abbiamo avuto Questo senso di frustrazione Volevamo fare Ma non sapevamo come Quante volte ti sei trovato In una stanza Tra virgolette Accompagnatemi nella metafora In una stanza buia E andavi a tastoni Cercando sto cavolo di interruttore E poi tac Se io avessi capito Qual era l'impianto La strategia della K Della stanza Strumentalmente Poteva attivare l'interruttore Questo è un po' il senso Questa era la metafora L'esempio Ad esempio A proposito di esempio Durante l'evento Ma anche in generale Durante un percorso di cambiamento Di cui vedremo l'incipit Questa sera con la formula Bisogna lavorare su tre aree Vuoi fare una dieta? Vuoi cambiare il tuo stato fisico? Vuoi rimetterti in forma? Vuoi cambiare il lavoro? Vuoi aprire un'attività nuova? Qualunque cosa tu voglia fare Ti prego di lavorare Con questa strategia che sto avendo Che è una strategia trasformativa Il primo passo Perché mi devo chiedere dove mi trovo Qual è il mio punto di partenza? Scusate porto avanti l'esempio della dieta Cioè quanto peso oggi? Che massa grassa ho? Quanto resisto alle tentazioni del mio amico Che mi dice Dai birretta questa sera? Oppure dai un piatto di pasta non ti farà niente? Oppure quanto resisto a non prendere dallo scaffale Quella roba Perché tutti sappiamo che la spesa inizia dalla spesa La dieta inizia dalla spesa Qual è il mio punto A? Qual è il mio punto di arrivo B? E che percorso devo fare? Per tutto questo Per andare da un punto A Dove mi trovo? A un punto B Dove voglio arrivare? Può essere un cambiamento Un obiettivo Non voglio entrare nello specifico La strategia è questa Prima fase Devi scoprire Quello che vi dicevo prima Quanto pesi Quando resisti Le tentazioni Quindi non solo fisicamente Ma anche mentalmente Secondo passaggio Devi sviluppare delle potenzialità Tu devi scoprire per un cambiamento Ne parleremo velocemente questa sera Poi devi sviluppare delle mentalità di cambiamento Ma poi c'è da fare un percorso Quindi bisogna sostenere Bisogna sostenere il cambiamento Quindi devi scoprire te stesso Dove sei forte e dove meno forte Sviluppare le tue potenzialità E poi sostenere il cambiamento Questa è la strategia Molto spesso si va subito nel punto 2 O nel punto 3 Ma non è scoperto È come andare in montagna E non capire che nello zaino Devo mettere anche Perché a 6.000 metri Si sarà il ghiaccio Devo mettere anche forse qualche rompone Quindi devo capire come funzioniamo E dove voglio andare Proprio per questo Stasera parleremo della formula del cambiamento Che ripeto è solamente concepita Io l'ho concepita in questa maniera Perché voglio che sia memorizzata Poi dopo dentro la formula c'è un mondo Perché la formula è fatta di due parti Come vedete C'è una che deve essere associata a due Questa formula Che è un modello Che noi abbiamo chiamato start and go E perché start and go? Perché noi Il nostro cervello È fatto Chi ha studiato PNL Oppure chi non l'ha studiata Ve lo dico io Noi facciamo le cose tendenzialmente Per due motivi O fai qualcosa perché vuoi sfuggire da cose che non ti piacciono Hai paura di quelli che si chiamano i pain I minus Oppure fai le cose Sei motivato a muoverti Perché vai verso cose che ti piacciono Quindi o scappi da qualcosa O vai verso qualcos'altro Cioè io Che ho magari un modello Verso Tu che mi stai ascoltando Ha un modello Via Via da Quindi scappi da qualcosa Tutte e due compriamo lo stesso biglietto per le Mauritius Ma io perché voglio andare verso il caldo È verso la mia modalità Tu perché vuoi scappare dal freddo Io perché voglio cambiare lavoro Perché voglio scappare dal capo L'altro vuole cambiare lavoro Perché vuole andare verso una miglioria Qualcuno subisce un cambiamento Perché deve scappare da qualcosa Ma poi devi usare tutti e due questi metamodelli Si chiamano metaprogrammi Cioè via da Cambiamento Devi far fare il primo passo Start Go Devi andare verso qualcosa Altrimenti ritorna indietro È come lui Che pesa molto Il medico gli dice Devi scappare da questo peso Altrimenti avrai dei problemi cardiaci Tu scappi dal peso Quando arrivi ad un peso Che più o meno Ti fa stare lontano dal pericolo Che succede? Che molto probabilmente Ti riavvicini perché ingrassi Se invece dopo che sei scappato dal peso Ti agganci ad un Go Quindi a qualcosa verso Magari vai definitivamente in forma fisica Quindi noi avremo una formula Start Di partenza E una formula Go Com'è la formula Start? Misura Bisogna avere dei metodi Ed ecco perché stiamo tre giorni insieme Dei metodi in cui noi misureremo Il nostro grado di insoddisfazione Misureremo Quelle visioni hai del futuro Cioè che c'è oltre al cambiamento Quali sono le tue azioni Se sono più forti delle tue resistenze al cambiamento Le tue prime azioni I tuoi primi passi Capito questo Parti Però per fare in modo che non succeda Come alla persona che dimagriva Di ritornare indietro Di ringrassare Devi aggiungerci la parte Go Quindi avrai Una parte Che è Partenza Start Dove misuri delle cose E una parte Go Che è per il tuo percorso E ti assicura Di avere Di poter allenare Tutte quelle competenze Di avere le persone di riferimento Di usare bene il tempo E per sviluppare la tua forza di volontà Questa sera Per il tempo che ci rimane Andremo a vedere Come funzionano queste due regole Ve le do velocemente Per farvi capire come Poi combinate Possono funzionare bene Allora La formula Start Quella di partenza Dice che il tuo cambiamento È uguale Al tuo grado Di insoddisfazione Quanto non mi piace Sta situazione Quanto mi piace Sta situazione Deve essere Moltiplicato Per V Per V Sta per la visione Che è del futuro Ancora moltiplicato Per I primi passi Che fai Questa cosa Il tuo grado Di insoddisfazione La tua visione E I tuoi primi passi Devono essere Più grande Di quella che noi Naturalmente Abbiamo Che è la resistenza Al cambiamento Perché il nostro cervello Ci protegge È fatto per la sopravvivenza Quindi quando c'è change C'è pericolo Ti dice alert E allora non lasci Una situazione Non cambi Un lavoro E c'è insicurezza Quindi Occhio che Per partire Nel cambiamento Per fare la prima partenza Dobbiamo proprio Usare questa formula Cioè capire Che il cambiamento Deve essere Uno Misura il grado Dell'insoddisfazione Lo faremo ad esempio Benissimo Venerdì pomeriggio Due Nell'evento Dico Due devo vedere Qual è la mia visione A cosa tende Il mio cervello Cosa vede Che è un po' diverso Dall'obiettivo Cosa vede Dopo il cambiamento Perché delle persone Non lasciano Adesso Adesso Non voglio Però delle volte Non si rompono Delle società O delle situazioni Perché non c'è una visione Cioè non Vedo nero No? Ma sentite Vedo nero Ma poi che faccio? E però pur di quello Tu ti abitui All'insoddisfazione Poi C'è il primo passo Perché se tu sei insoddisfatto Io sono insoddisfatto Di una situazione lavorativa Che ho vissuto Ecco perché Ho avuto un cambiamento Però ho avuto qualcuno E mi ha detto Se fai questo Avrai questa visione Allora ho detto Ok pianifichiamo E ho fatto i primi passi Se la moltiplicazione Di insoddisfazione Visione Primo passo È più grande Del tuo cambiamento Allora hai vinto Perché hai vinto? Perché la resistenza Al cambiamento Lo vedremo bene La prossima volta È fatto da tre virus Se Insoddisfazione Visione Primo passo È più grande Come volume Di misurato Della resistenza Al cambiamento Che è La difficoltà La uscire dalla zona comfort La difficoltà Non rimandare le cose A dire Ma non ce l'ho fatta Quella volta Non ce la farò neanche adesso Bene Se l'insoddisfazione La visione E il primo passo Sono più grandi Di queste tre cose Tu sei pronta Sei pronto Per cambiare Ma le devi misurare Non puoi andare Ad intuito O a sensazione E questo Lo faremo Con un metodo Scientifico Proprio Nel senso Che è fatto passo passo Faremo Uno strumento Di coaching Importantissimo Per l'insoddisfazione Delle domande chiave Per capire Com'è la tua visione Quindi dove la puoi migliorare E se sei già predisposta Al primo passo E poi calcoleremo La resistenza Quindi si mette Su una bilancia E capiremo Questo ti permette Di poter Avere La possibilità Di partire Cosa accade Quando noi siamo partiti Che si dice Che il cervello Cerca Esattamente Quello Scusate Trova Esattamente Quello che cerca Cioè noi abbiamo Un modello Che è il Il sistema Proprio Ausiliare O reticolare Si chiama Tecnicamente O SAR Che ti fa vedere Esattamente Quello che cerchi Esempio Compriamo Il cane nuovo E ne vediamo Di quella specie Infiniti Compriamo La macchina nuova E incominciamo A vedere Quel modello Ovunque Compriamo Il giubbetto Di pelle E se ne vedono Ovunque Ma è vero È vero Che sono aumentati I numeri O è il tuo cervello Che ti porta lì Allora Sappiate Che il nostro Inconscio Così come Lo educhi Lui è letterale Cioè quello che gli dici Gli fai Se tu la mattina Dici sono stanco Sono stanco Sono stanco Lui lo fa Ti ubbidisce Se poi lo dici Per tutte le volte È come la calcolatrice Tu fai tre per due Una volta E poi lo fai La seconda La terza La quarta La quinta Lui non analizza Ti rifà l'operazione Quindi se al mio inconscio Dico Sono stanco oggi Oggi non è giornata E lo dico per trenta volte Tre per due Tre per due Tre per due Lui non analizza E non è che tu gli puoi dire Alle tre del pomeriggio Perché ha bisogno di energia Guarda non è vero che sono stanco Non ha il senso dell'umorismo Quindi Attenzione Ma ne parleremo alla terza serata Di questo Perché l'inconscio Noi lo nutriamo Da mattina A sera Ascoltatemi bene Per favore Da mattina a sera Noi nutriamo l'inconscio Con Il dialogo interno Ma soprattutto Con i pensieri interni Quelli che non hanno Labiale Ma che ci diciamo Quelli mi preparano O non mi preparano Al cambiamento Questo per dirvi Che una volta Utilizzate la formula Start Quindi fate quelle misurazioni Ok sono pronto Per partire Per il proseguo Devi utilizzare appunto Questa cosa Siccome il cervello Trova esattamente Quello che cerca Devi cercare soluzioni Devi attivare Il sistema reticolare Il sistema di attivazione reticolare Cioè di porre il focus Su Che serve per il cambiamento Serve tutto quello Che vedremo Nella seconda parte Della formula Cioè io ti dico Cerco di riassumere Parte start Per partire Quindi misurati Mettili sulla bilancia Quando sei soddisfatto Che visione hai Che primi passi hai pronti Quanto sei ancora resistente Tanto ci siamo resistenti Quanto sei ancora resistente Al cambiamento Fatto questo Ti dico Prima di presentarti La seconda parte La seconda parte della formula Quella Go Quella del viaggio Quella che ti accompagna Quella che tu serai per camminare Attiva il SAR Cioè vai a cercare Quello che serve Cosa deve cercare il nostro cervello O cosa devo abituare A cercare il nostro cervello Verso dove devi indirizzare Lo sguardo del mio cervello Verso tutti gli elementi Di questa seconda formula Che chiameremo Go Queste lettere che adesso Ovviamente avrete capito Vado a darvi Cioè il cambiamento è uguale A questa S Che sta per sapere A questa P Che sta per persona A questa T Che sta per tempo E a questa FDV Che sta per forza e volontà Cioè Ti chiedo Almeno fallo come allenamento mentale Come riflessione mentale Fatto start Attivato il focus Cerca Vai a trovare quello che cerchi Perché ti aiuterà il cervello Fai in modo Che tu di cercare Per questa prosegue Del cambiamento Delle cose Uno A che livello è il tuo sapere Il tuo know-how Le tue competenze Perché delle volte Noi Non sappiamo Di non sapere Non siamo Conscienti E allora Bisogna attivare Questo processo Cioè andare verso I livelli Di apprendimento Dal sapere Dal fatto che Delle volte Non sappiamo Di non sapere Dobbiamo capire Dobbiamo capire Cosa Ancora non so Non so di non sapere So di non sapere Inizio a fare delle cose Per il cambiamento Ovviamente Perché magari Fino ad oggi Noi abbiamo avuto Difficoltà Frustrazioni Rinunce Al cambiamento Perché non sapevamo Dove iniziare Quello che vi ho detto prima Andavamo Tentoni In una camera buia Perché non sapevamo Che a quale altezza Così è un esempio Passatemelo Erano i miei interruttori Perché molto spesso Il sapere È esattamente Dove non credo che sia E per quello Inquinatevi Positivamente Di punti di vista Quello aumenta il sapere Secondo elemento Su cui devo mettere il SAR Cioè primo è SAR Quanto so di non sapere Cosa mi manca Per gestire il cambiamento Il secondo è questo Le persone Che avete intorno A parte il famoso detto Noi siamo alla media Delle cinque persone Chi dice dodici Che frequentiamo Ma in verità Il gruppo Il vostro Cosiddetto gruppo di pari Cioè quell'elemento Con cui condivido valori In cui dico qualcosa Cioè quelle persone Che non ti dicono Ma chi ti ha messo in testa Queste cose Vole a passo No Quelle persone Che non fanno così Ma che ti stimano Ci sono intorno a noi O siamo ancora Come dicono Nelle scuole americane Con i toxic people Cioè con quelli Con i vampiri energetici Dove tu parli con sta persona Per un'ora Vai a casa stanco O stanca Come faccio ad avere forza Per il cambiamento Quindi Il sapere Le persone Il gruppo di pari E poi Lo dicevano i nostri nonni Dai Tempo Al tempo Dai Tempo Al tempo Tutto a una maturazione Non posso andare in palestra E pensare che dopo una settimana Sono pronto Non posso imparare Uno strumento E pensare che dopo una settimana Sono pronto Sicuramente Se voglio Imparare uno strumento Devo sapere Come si legge la musica Devo stare in un conservatorio Per persone E devo avere del tempo Se voglio fare una dieta Devo sapere Quali sono gli ingredienti Della dieta La parte nutrizionale Devo essere con delle persone Che mi stimolano E devo darmi del tempo E se metto a posto Metto il SAR Io quando dico metto a posto Vado a mettere il mio SAR Il mio focus Il mio sguardo mentale Su sapere Persone e tempo Cosa mi manca di sapere Cosa potenziare di quello che so Cosa posso ancora migliorare Di quello che so Le persone giuste Quali sono Il mio gruppo di pare Qual è E datti il tuo tempo Serve la forza di volontà Quella cosa che spacca Quella cosa che ci ha portato A fare le due di notte A non dormire Ad andare A fare chilomeri Quella forza di volontà Collegata a un fatto emotivo E non solo di risultato A un fatto emotivo E non solo di risultato Fatta questa premessa Quindi la formula Start Attiva il tuo SAR La formula GO Vi chiedo Di prendervi del tempo Perché vi arriverà un link Sulla chat Credo Un link In modo che voi Vi potete tenere un risultato Che poi Per chi sarà All'evento Sarà anche analizzato Un risultato In cui voi farete Questo piccolo Questionario Auto Autovalutazione Per capire Come siete messi Con il cambiamento Perché noi abbiamo Parlato di tempo E perché abbiamo Parlato di questo Perché in verità Per un cambiamento Noi dobbiamo fare La conoscete La storia della rana bollita No? Si dice che Tu questa Adesso io penso Che tutti l'abbiamo sentita Letta sui social Ma comunque Viene detto Che se tu una rana La getti In acqua Che è bollente Lei schizza subito fuori Perché ovviamente L'acqua bolla Se invece la metti In un'acqua tiepida Molto quasi fredda Ma sotto hai un fornello La rana Pian piano Non sente l'aumentare Dell'acqua Della temperatura Dell'acqua Fino a morire Il nostro cervello In positivo Deve fare questa cosa Cioè dobbiamo capire I cambiamenti Come lì Vanno in un punto estremo Perché purtroppo La rana Non fa una bella fine Però con questo Con questo fatto Di aumentare Un grado alla volta L'acqua Ma un grado alla volta Il cambiamento Noi possiamo Permetterci Di lavorare Quella formula Che avete visto prima Soprattutto la parte go Ti permette di lavorare Sul cambiamento Perché spesso La parte start Non l'abbiamo usata Eravamo stufi La goccia Che ha fatto Drabboccare il vaso Però era un via da Poi dobbiamo aggiungerci Il verso La go E la rana bollita Deve avere questa cosa Cioè devo avere la pazienza Vi guardate il fattore T Il fattore tempo Di avere questo sistema E in più Dovete capire Che il nostro cervello Ha bisogno di tempo Per consolidare Un'abitudine Tant'è vero Tant'è vero Che farete un esercizio Per chi sarà all'evento Di come passare Tra una regola A cambiare abitudine Da una regola A avere un comportamento Nuovo Quindi un nuovo modo di fare Un comportamento nuovo E che è proprio Un sistema di coaching Che noi vedremo Insieme Non facciamo Facciamo in modo Di cambiare comportamento Altrimenti Per cercare qualcosa Che volevamo da tempo E delle quali Ci stiamo impegnando da tempo Rischiamo Di fare questo qui Quindi è chiaro Che non dobbiamo Usare le strategie Una cosa deve essere chiara A parte i nomi Che abbiamo dato Start Go Che poi sono tutti studi Che abbiamo raccolto Che ho raccolto E abbiamo raccolto per anni Ma la cosa importante È non andare In un SAR Che ho usato nel passato Quindi bisogna cambiare Come non Ha fatto quel cane Strategia Per cui continuava a usare La stessa strategia Per ottenere Lo stesso risultato Che non arriva mai Sappiate che il cambiamento È fatto di un passo Dopo l'altro E si dice Che c'è il centesimo Di un cambiamento Centesimo dopo centesimo Si arriva ad un milione Se voi ci pensate In un anno Se tu Questo è un processo matematico Se tu prendi questo numero E lo moltiplichi Per 365 Quindi uno Per uno Per uno Per uno Per uno 365 volte Che guarda caso Sono i giorni dell'anno Il numero Resto uguale Se tu in un anno Sei semplicemente Attento Ed ecco il SAR Il GO I piccoli passi Di cui parlavamo A migliorare Di un centesimo Al giorno E fai 1,01 Stavolta Per 1,01 Per 1,01 Ma 365 Volti In un anno Voi avete 37 volte Quello che avete oggi Quindi 37 potenzialità In più Di decidere 37 potenzialità In più Di cambiare 37 volte Più flessibilità 37 volte Una migliore comunicazione Con voi stessi Ci sbaglieremo Non sarà 37 Ma se fosse solo 4 Solo 10 Se invece io mi adeguo Nella mia zona comfort E questa era un po' Per lanciare La prossima Diretta Che faremo Il prossimo webinar Che faremo Il 13 13 sera Se invece io vado A 0,99 Che è sempre un centesimo Ma per 365 volte Guardate dove si fa a finire Per cui La conclusione di oggi è Sì abbiamo parlato di cose Apparentemente teoriche Però Uno Fai un'azione start Misurati Per capire Insoddisfazione Visione E se hai pronti I primi passi E se questa roba È più grande Della tua forza Alla resistenza Di R Che vedremo La prossima volta Due Attiva il tuo focus mentale Che tecnicamente Si chiama alzar Per il fatto che Il cervello trova Esattamente quello che cerca Dove Cosa devi cercare Devi cercare il tuo gruppo Di pari Devi cercare Per quanto riguarda L'altra formula Devi cercare Anche Devi dare il tempo Alle persone E il sapere Per cui Attivi la forza Di volontà Se tu hai una forza Di volontà Di un centesimo Guarda dove Noi possiamo arrivare A fine di un anno Perché purtroppo Spesso È la conoscenza Di noi stessi Che non ci permette Di emergere Di splendere Di fare luce Come si dice In certi casi Ci sono molti esperti Di materia Purtroppo in giro Ma compreso Con noi stessi Ci sono pochi Esperti Di persone Ci vedremo Alla seconda Serata Grazie Per me è stato Un piacere E quindi grazie Per questa Serata